Il controllo delle armi pare ormai un'impresa improba negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha appena bocciato una proposta di legge dello Stato di New York che prevedeva il divieto di portare armi da fuoco in pubblico, a meno di dimostrare una giusta causa per farlo. Una sentenza che di fatto ora abolirà anche analoghe restrizioni già poste in essere da altri Stati e che ha provocato l'indignazione della governatrice di New York. Questa decisione non è solo sconsiderata, è riprobevole. Non è quello che vogliono i new yorkesi e noi dovremmo avere il diritto di decidere cosa vogliamo fare in termini di leggi sulle armi nel nostro Stato. Se il governo federale non ha intenzione di emanare leggi radicali per proteggerci, allora i nostri Stati e i nostri governatori hanno la responsabilità morale di fare ciò che possono e di avere leggi che proteggano i nostri cittadini dalla follia della cultura delle armi, che ora ha preso possesso di tutti, fino alla Corte Suprema. Ad accogliere con favore la sentenza è stata invece la potente lobby americana delle armi, la National Rifle Association, secondo la quale gli statunitensi avrebbero il diritto fondamentale di portare armi da fuoco in pubblico e di fatto, a poche settimane di distanza dalle ultime letari sparatorie di massa, la Corte ha stabilito una volta per tutte come il secondo emendamento non si applichi alla sola proprietà privata.